Eccoci qua, buongiorno giovani, buongiorno a tutti in questo lunedì 22 novembre 2021 che segna l'inizio della settimana del Black Friday di DungeonDice.it lo sapete già perché è da stamani che state scrivendo, che state riscattando ricompense qua sul canale Twitch di DungeonCastTV per avere il mese di abbonamento VIP su DungeonDice.it vediamo, vediamo se ci sarà il tempo oggi per inviarlo a tutti perché lo avete chiesto veramente in tantissimi tutte le richieste inviate fino a ieri sono state base, vediamo se ve lo meritate iniziamo subito la puntata come dicevo questa settimana del Black Friday che sarà segnata da offerte io vi raccomando di tenere d'occhio DungeonDice.it perché le offerte entreranno e usciranno poi magari approfondiremo meglio questo quindi scrivete che siete impegnatissimi con gli acquisti intanto ringrazio anche Balem che vedo in chat per il rinnovo dell'elaboramento siete impegnatissimi con gli acquisti, siamo contenti, ho letto qualche messaggio che avete scritto nel nostro gruppo Telegram di DungeonCast al quale vi invito a iscrivervi, se non vi siete già iscritti insomma vi sono piaciute queste offerte, siamo molto molto contenti ma come detto ne parleremo magari un po' meglio tra qualche minuto allora com'è iniziata questa settimana? Noi l'abbiamo conclusa venerdì con una Q&A infuocata in cui abbiamo parlato appunto del Black Friday e delle altre tipologie di sconte degli altri periodi di sconti che ci sono nel corso dell'anno in relazione a quelle che sono ovviamente poi le esigenze e le prerogative di un'azienda commerciale ciao Gab, buongiorno, ciao Balem grazie, ah prego, prego ci mancherebbe grazie a te è arrivato anche Capitan Meeple, si è riabbonato anche Damiano grazie Guybrush per questo rinnovo dicevo quindi infuocata con questo discorso del Black Friday grazie anche a Valkian per il rinnovo e l'abbonamento siete tantissimi oggi a rinnovare l'abbonamento so che non lo state facendo per me ma lo state facendo soltanto per le offerte ma io vi ringrazio, vi ringrazio lo stesso dicevo, Q&A infuocata abbiamo accennato anche nel corso della Q&A a un titolo di cui vi parlerò meglio nel corso della prossima puntata lunedì prossimo perché mi hanno mandato il regolamento che però l'ho ricevuto stamattina e non ho fatto ancora in tempo ad approfondirlo e sto cercando di recuperarne una copia visto che comunque non è facile recuperare una copia di questo gioco visto che pare sia andato esaurito sto parlando di Start che è un gioco di Clementoni che è uscito il 18 novembre quindi pochissimi giorni fa è già andato praticamente esaurito ovunque ed è stato inteso un po' come il gioco di Montemagno ma è davvero il gioco di Montemagno? allora lui non ha fatto molto diciamo per grazie Damiano per i beat, grazie per il tifo dicevo, non è che l'ha fatto lui il gioco lui poi non ha fatto molto per cercare di sviare questa cosa perché un suo post scriveva nel dettaglio grazie anche a Turing per il rinnovo e l'abbonamento scriveva, ho fatto un gioco da tavolo come se poi l'avesse fatto lui in realtà lui è il testimonial in qualche modo di questo gioco che ha destato numerose polemiche da parte dei puristi per la sua presenza come volto di copertina la tematica come potete immaginare dal titolo si chiama Start è quella del mondo delle start up e delle nuove professioni del presente e del futuro se conoscete Montemagno è considerato uno dei guru della comunicazione in Italia e uno di quelli che ha sempre guardato al futuro alle nuove professioni appunto che sono il fulcro di questo gioco si tratta di un collaborativo per uno o sei giocatori quindi sarà inclusa anche una modalità solitario ma la cosa che diciamo fa accendere la lampadina su questo titolo oltre alla supervisione di Francesco Berardi che di Clementoni che è uno dei migliori sviluppatori che abbiamo nel nostro paese e non lo dico per piageria ma lo dico perché lo penso davvero è un grandissimo professionista che ringrazio tra l'altro per avermi messo a disposizione immediatamente il regolamento quando gliel'ho chiesto ciao Ninuel, benvenuto a bordo, grazie per il follow ma i nomi dietro oltre a quello di Francesco Berardi come dicevo sono quelli del neo formatosi, neo costituitosi collettivo BLOB BLOB che non è nient'altro che l'acronimo dei quattro autori che ci sono dietro che sono Borsa, Lanza Vecchia, Overt e Bellini che sono praticamente una buona parte della crema dell'autorato italiano quindi quattro nomi importantissimi nel game design italiano inoltre le domande sulle professioni presenti nel gioco perché nel gioco ci saranno anche delle domande su queste nuove professioni sono a cura dei professionisti di studio giochi come dicevo il tutto con la supervisione di Francesco Berardi quindi da un punto di vista della qualità del gioco mi aspetto grandi cose cioè nel senso le aspettative sono alte poi ci sono state molte polemiche sui social perché molti hanno inteso che il gioco fosse fondamentalmente una marchettata di Montemagno ho letto un commento che diceva e beh facile così se hai le conoscenze giuste chiunque può fare un gioco da tavolo ma come dicevo il gioco da tavolo non l'ha fatto Montemagno una volta prima di commentare sui social sarebbe il caso magari di documentarsi un po' ho letto anche persone che hanno risposto ai commenti non ricordo se di Walter Robert o di Luca Borsa uno di questi post diceva ma che gioco vuoi che sia è una marchettata risposta al commento di uno degli autori magari se volevi sapere com'era il gioco bastava chiederlo basta informarsi su chi appunto l'ha creato e chiedere come è il gioco in ogni caso questo è quello che ho da dirvi oggi di su Start il gioco di Montemagno se vogliamo chiamarlo così comunque con Montemagno in copertina con Montemagno come testimonial ma come dicevo curato da Borsa Lanzavecchia Robert Bellini e supervisionato da Francesco Berardi pubblicato da Clementoni settimana prossima lunedì prossimo sempre qui alle 12.30 lo approfondiremo insieme e come vi dicevo spero di avere anche una copia per potervi fare vedere la componentistica nel dettaglio come faccio di solito in queste puntate di Board Next andiamo avanti vediamo un po' cosa mi avete scritto nei commenti perché la chat è andata giù tantissimo perché avete rinnovato un sacco di abbonamenti grazie grazie ancora Gab si chiama Mario entra per ultimo la squadra già schierata e fa il mazzo a tutti offerte top il sito funziona senza intoppi grazie grazie tanto ci abbiamo lavorato tantissimo siamo veramente contenti che quest'anno nonostante un forte incremento del traffico comunque le cose siano andate per per il meglio Spip scrive ci sono dei signori professionisti dietro il gioco di Montemagno vero assolutamente sì l'ho appena detto intanto abbiamo sbloccato una nuova emoticon grazie all'hype train grazie a grazie a tutti voi Yorgos scrive l'iconografia mi sembra brutta forte sta scatola anche l'iconografia mi sembra un po' confusa te lo farò sapere te lo farò sapere lunedì lunedì prossimo te lo farò sapere lunedì prossimo e chissà magari visto che comunque Yorgos te sei qua a lucca come me se riesco ad avere una copia in tempo magari riusciamo a farci anche una partita insieme prima di lunedì sono arrivati anche Bradipo Armato e Antoine che saluto mentre proseguo con la prossima notizia perché quello che vedete sullo schermo in questo momento è il faccione molti di voi l'avranno riconosciuto e Levar Barton sicuramente gli appassionati di Star Trek lo avranno riconosciuto attore americano che è diventato diventato famoso comunque deve buona parte del suo successo alla sua apparizione in Star Trek e poi anche per anche per il meno nerd anche per alcuni cameo che ha avuto in alcune puntate di The Big Bang Theory inevitabili direi uno meraviglioso nella puntata in cui Sheldon lo invita a casa a una festa alla sua festa quando gli altri invece erano andati a far festa per conto loro e arriva e li trova guardatevi The Big Bang Theory che merita merita veramente tuttavia la notizia è che tornerà in televisione un quiz show dedicato a Trivial Pursuit ora qua sul canale Dungeon Cast TV su Twitch vi abbiamo abituato ai quiz con l'appuntamento fisso del giovedì sera alle 21.30 con il Dungeon Quiz dove venite a rispondere alle mie domande sul mondo dei giochi da tavolo intanto saluto anche Daivimtvar78 che si è unito a noi grazie per il follow dicevo giovedì sera vi ho abituato al quiz non perdete l'appuntamento di questo giovedì alle 21.30 sempre qua è arrivato anche Numero Pantone tra l'altro a proposito di quiz uno dei giocatori più accaniti del Dungeon Quiz Numero Pantone e grazie anche a Nick Rips Nick Trips per per l'abbonamento grazie tante dicevo negli Stati Uniti andrà in onda una nuova edizione di un quiz show dedicato a Trivial Pursuit questo nasce da una collaborazione tra Hasbro e la casa di produzione di Levar Barton che tra l'altro non sarà per lui la prima esperienza alla conduzione di un quiz televisivo visto che aveva già sostituito lo storico conduttore di quello che è uno probabilmente il più storico quiz televisivo agli Stati Uniti Geopardi il conduttore Alex Trebek che fu sostituito dalla Var dopo la sua scomparsa non è neanche la prima volta che Trivial Pursuit viene adattato per il pubblico televisivo perché già negli Stati Uniti ce ne erano state due edizioni una dal 92 al 95 una dal 2008 al 2009 sempre con un grandissimo successo la prima edizione di un quiz show televisivo dedicato a Trivial Pursuit invece c'era stata nel 1990 nel Regno Unito grazie alla BBC e dal 93 al 94 anche i tedeschi hanno avuto la loro edizione del quiz show televisivo dedicato a Trivial Pursuit quiz show che non è mai arrivato in nessuna sua forma in Italia e chissà se questa possa essere l'occasione giusta tanto è arrivato anche Squilibrio grazie anche a Roflo e Squilibrio appunto che hanno rinnovato ancora il loro abbonamento grazie grazie tante prossima notizia ultima notizia per oggi poi parleremo un po' del Black Friday di DajonDice.it vi darò alcuni dettagli magari che non conoscete già e poi ci sposteremo sul nostro meraviglioso tavolo Ars Linea perché si sta avvicinando il Natale lo sentite questo profumo di Natale nell'aria alcune strade hanno già le luminarie i centri commerciali sono già addobbati questa è la settimana in cui inizia ufficialmente anche a livello commerciale il Black Friday anche se come abbiamo detto venerdì durante la Q&A le offerte ormai i periodi di offerte ormai ci sono in tutto l'anno anche il Black Friday da essere diventato un giorno è diventato praticamente un mese intero tutto novembre ma inizia diciamo ufficialmente se vogliamo tra virgolette il periodo natalizio e oggi vi darò un paio di consigli vi farò vedere un paio di giochi che sono innanzitutto molto economici e quindi perfetti per i regali di Natale secondo sono molto facili da giocare molto divertenti da giocare quindi perfetti per le serate tra amici e parenti che ci si profilano davanti nei prossimi 40-45 giorni quindi rimanete con me fino alla fine ma prossima notizia probabilmente lo avrete visto passare sui gruppi o sugli ads di facebook o di google advertise sta tornando dopo tanti ritorni ne abbiamo parlato anche di questo argomento qua in una Q&A tanti ritorni tanti reboot sta tornando anche Atmosphere quel gioco che 30 anni fa riuscì in qualche modo a entrare nella storia e a ritagliarsi uno spazio unico perché è rimasto nell'immaginario collettivo questo perché Atmosphere all'epoca era fortemente innovativo unico per il fatto che all'interno della scatola era presente una videocassetta che di fatto accompagnava i giocatori nell'esperienza della partita il protagonista del video presente nella videocassetta era il gatekeeper o il guardiano come fu tradotto poi nell'edizione italiana e il gioco aveva a possiamo dire perché è ancora attuale ancora giocato io stesso l'ho giocato non più tardi di qualche qualche mese fa l'ho rigiocato non più tardi di qualche mese fa questo gioco ha tinte horror ma dalle meccaniche elementari in pratica si tratta di un'ora fatta di lanci di dadi ed eventi nefasti nella speranza di riuscire a raccogliere le chiavi che poi permettano di uscire da questo labirinto se vogliamo in cui siamo imprigionati e tenuti dal gatekeeper per la serie Atmosphere perché di serie si tratta anche se poi in Italia ha avuto successo soltanto l'originale ha avuto un grande successo soltanto l'originale sinceramente non so se sono mai usciti i sequel in lingua italiana tuttavia la serie ha avuto diversi sequel in Italia ci fu una nuova edizione quando ci fu il passaggio tecnologico dalle VHS al DVD uscì anche una edizione che in pratica cambiava soltanto il supporto di riproduzione dei video per adattarlo ai tempi quindi si passò dal VHS al DVD sta uscendo o meglio è in corso una campagna di crowdfunding per l'edizione trentesimo anniversario di Atmosphere che promette di mantenere inalterato lo stile dell'originale quindi anche a livello di meccanica e anche a livello di gameplay il gioco rimarrà molto semplice molto in mano anche all'Alea quindi sconsigliato ai germanisti puri se vogliamo ma si adegua ulteriormente all'attualità e il supporto non sarà più il VHS non sarà più il DVD ma il video del Gatekeeper e degli altri host dello show di questo show di Atmosphere perché ce ne sarà più di uno saranno disponibili in streaming quindi sarà possibile giocare praticamente da ovunque dicevo gli host perché non ce ne sarà uno solo perché grazie alla tecnologia attuale è possibile ovviamente mettere a disposizione più video e anche far uscire questi video a cadenza regolare quindi saranno incluse nelle promesse degli autori di questa trentesima edizione trentesimo anniversario tutti gli host che sono stati presenti nella serie Atmosphere molti impareremo a conoscerli per la prima volta in Italia non ci sono al momento notizie su una eventuale localizzazione in italiano di questo titolo il testo sulle carte generalmente ovviamente io mi baso sulle edizioni sulle edizioni che ho giocato è facilmente traducibile tuttavia ci sono delle carte che sono private personali non possono essere lette agli altri giocatori o chiedono di fare qualcosa in particolare quindi occhio alla lingua se avete intenzione di finanziarlo fatemi sapere cosa cosa ne pensate di queste nuove edizioni ne parliamo ne parliamo spesso ne abbiamo parlato spesso di queste nuove edizioni che vengono messe sul mercato non solo per quanto riguarda il mondo del gioco da tavolo anche il videogioco il cinema hanno questa diciamo recente tendenza al reboot al riproporre vecchi brand che hanno avuto un grande successo in passato per provare diciamo a riaccendere l'interesse su certi marchi e sfruttarli ancora commercialmente anche questo è un argomento di cui abbiamo parlato in una delle ultime Q&D sul nostro canale YouTube potete trovare il link direttamente nella chat in questo momento ve l'ho fatto comparire potete andare a recuperarle perché abbiamo parlato appunto anche di questa tendenza nel riportare vecchie glorie del passato la motivazione è molto semplice ovviamente è più facile andare a lavorare su un prodotto che esiste già rispetto a un prodotto nuovo completamente nuovo che dovrà avere poi un suo posizionamento sul mercato avere un suo pubblico avere una sua una sua audience quando invece come è successo anche con HeroQuest basta dire HeroQuest e diciamo la base di mercato è già lì che non aspetta altro perché il marchio è già conosciuto vediamo quanto continuerà ancora questa tendenza Valkian scrive non sono una persona nostalgica credo che vecchi brand e idee non siano buoni o cattivi a prescindere ma penso che vadano riproposti sempre solo se attualizzati e migliorati non mi piace l'operazione HeroQuest per dire mi piace il lavoro fatto con Glamour 2 e il buon lavoro fatto sull'isola di fuoco allora prendiamoci un minuto per parlare anche di di questo che è un argomento sempre molto interessante io la penso esattamente come come te Valkian nel senso non sono un nostalgico da spendere centinaia centinaia di euro per un oggetto da collezione non sono nostalgico e non sono un collezionista per nulla non solo per i giochi da tavolo ma neanche per videogiochi o altri videogiochi per dire a differenza di molti amici che sono dei feticisti del fisico io sono passato completamente al digitale ormai da anni sono anni che non compro un gioco in formato fisico inoltre tra l'altro ecco a confermare la scelta il fatto che la playstation 5 ho preso l'edizione digital senza neanche il lettore di dischi io ho già fatto il passaggio al digitale anche per una questione geografica io per andare a comprare un gioco comunque mi dovevo fare come minimo tra andate e ritorno una quarantina di chilometri in macchina ovviamente una volta avuto la dsl poi la fibra in casa mi veniva molto più comodo e molto più pratico comprare l'edizione digitale senza dover neanche uscire di casa anche se poi ovviamente non ti rimane niente di fisico ma di fisico anche nel videogioco oggi non c'è praticamente più niente nel disco avete una versione del gioco che non è neanche la versione day one perché al day one poi di solito ci sono le patch o degli aggiornamenti di fatto il disco serve a poco o nulla al giorno d'oggi in mia opinione non sono un nostalgico in quel senso non sono un nostalgico neanche per quanto riguarda il gioco da tavolo tanto che non ho questo forte hype per Hero questo come ho già detto in in passato è un'operazione meravigliosa da un punto di vista commerciale ho compagni e il gruppo di gioco che sono esaltatissimi da questo ritorno di Hero questo ed è giusto ed è normale che sia così il target dell'operazione siamo noi siamo i quarantenni di oggi i trentenni i quarantenni di oggi che magari l'hanno giocato un po' da piccoli hanno un bel ricordo delle ore passate con il gioco sul tavolo o magari meglio ancora che l'hanno bramato al tempo ma non lo hanno mai ricevuto in regalo e che oggi sono fanno parte della classe lavoratrice quindi hanno un reddito e possono togliersi lo sfizio a posteriori diciamo in qualche modo nel caso specifico io Hero questo l'ho esaurito dal ragazzo abbiamo passato sopra due stati giocando a tutte le espansioni due stati giocando tutti i giorni praticamente tutto il giorno lo abbiamo esaurito cioè nel senso non ha più niente da dirmi e non essendo un collezionista non mi ha molto senso mettere in casa un gioco che so che non giocherò mai solo per il fatto che mi ha regalato delle ore emozionanti dal ragazzo si era già esaurito al tempo tanto che passammo a Dungeons & Dragons dopo un po' ciao Arianna benvenuta grazie per il rinnovo per il rinnovo dell'abbonamento ho preferito ho preferito buttarmi su Descent sulla terza edizione di Descent che trovo il personalmente poi magari in una puntata di Board Next riuscirò anche a farvelo vedere stiamo facendo delle piccole modifiche allo studio per rendere più fruibile anche la visione della componentistica da parte da parte vostra che ora come vedete è solo un piccolo presigenze di spazio solo un piccolo angolo del tavolo viene inquadrato in maniera degna sto facendo le piccole modifiche per aumentare appunto la fruibilità della visualizzazione della componentistica sul tavolo poi vi farò vedere anche titoli che richiedono più spazio per essere apparecchiati come Descent che mia opinione è quello che fu HeroQuest al tempo cioè nel senso è il dungeon crawler in questo momento definitivo per tutta una serie di motivi e magari dopo quando sarò di là sul tavolo Artslinnea nella parte finale in cui potete farmi tutte le vostre domande potete chiedermi quello che volete anche su Descent ciao Daniele benvenuto abbiamo iniziato dicendo che questa è la settimana del Black Friday chiudiamo la parte dedicata alle notizie parlando appunto del Black Friday di DungeonDice perché sicuramente ormai voi saprete già tutto perché sarete andati già da stamattina alle 6 a cercare le migliori offerte per voi ma per chi se lo fosse perso su DungeonDice da oggi 22 novembre al 28 novembre solo per i clienti registrati potete usare il codice BF2021Dice quindi BF Bologna Firenze 2021Dice vi metto il link in chat alla pagina delle offerte così alla pagina dedicata al Black Friday su DungeonDice.it così potete andare a vedere precisamente il codice e fare un copia e incolla e avrete avrete con questo codice il 15% di sconto su tutti i prodotti in pronta consegna compresi fuori tutto esclusi i prodotti in offerta lampo i danneggiati e i preordini questo 15% di sconto è cumulabile con il codice VIP il codice VIP potete averlo gratuitamente se seguite DungeonCastTV come sapete se scrivete punto esclamativo DungeonPoints scoprite anche come oppure punto esclamativo Prime anche meglio perché scoprite anzi ve lo scrivo io scoprite come diventare abbonati di DungeonCastTV gratuitamente e volendo quindi anche abbonati VIP su DungeonDice.it oltre a questo quindi 15% di sconto su tutto utilizzando questo codice che è ripetibile quindi potete fare più ordini utilizzando questo codice per tutta la settimana c'è un'area Black Friday che raccoglie tutte le offerte del Black Friday e un'area Black Friday VIP dedicata alle offerte riservate agli abbonati VIP di DungeonDice.it oltre a questo c'è anche un'area Black Friday fuori tutto plus con ulteriori sconti tutto questo lo trovate anche nei dungeon store quindi se avete un dungeon store vicino tutte le promozioni che vi ho detto sono presenti anche nei dungeon store una cosa importante come sempre non è possibile unire dividere o modificare gli ordini una volta effettuati fate riferimento alla pagina che vi ho linkato in chat per tutte le informazioni quindi le code del Bancomat normalmente al dungeon store non si vedevano grande Luca Ciglione ciao Luca Ciglione detto questo allora io mi sposto sul tavolo Arslinia per parlarvi dei due giochi di oggi vi lascio con un trailer dei giochi Gate on Games come sempre ci vediamo tra un minutino di là a Autore dei sovrapposti 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 alla nostra destra, non volevo dirla sbagliata, e questa la stessa cosa ma dal giocatore alla nostra sinistra. Perché copiare carte a destra e a sinistra? Perché la meccanica alla base è quella del draft, Seven Wonders per intendersi. E in gameplay il flusso di gioco è molto semplice, perché una volta determinato il tema del round in corso, come vi dicevo pescato dal mazzo di carta tema, dopo aver dato una mischiata alle carte, ogni giocatore ne riceve 8, 2, 4, 6, 8. Riceve 8 carte, le controlla, le guarda, ne sceglie una che tiene coperta davanti a sé e passa le restanti al giocatore alla propria sinistra, ricevendo quelle passate, 4, 5, 6, 7, 8, diciamo così, dal giocatore a destra. Una volta che tutti hanno passato le carte, tutti hanno scelto una carta e passato le altre al giocatore alla propria sinistra, tutti rivelano la carta che è stata scelta, perché tutti devono vederla. Si prosegue il draft fino a che tutti i giocatori hanno 8 lettere di fronte a sé, quindi 8 lettere scelte. Non si scarta nessuna carta in questa fase. L'ultima carta che vi arriva dal giocatore alla vostra destra ve la tenete. Quindi alla fine del draft avrete una situazione, cerco di starci come spazi, una situazione di questo tipo. Avrete una serie di lettere e a questo punto dovrete pensare una parola che sia attinente al tema in corso nel round, in questo caso ve lo faccio rivedere cose dure, che utilizzi quante più carte possibile tra quelle che avete a disposizione. La cosa che rende unico questo gioco e secondo me perfetto per le serate è che potete utilizzare tutte le lettere in più che volete per comporre una parola. Semplicemente queste lettere in più non contribuiranno al punteggio per il round in corso. Quindi per dire cose dure con queste lettere a disposizione. Ora cambiamo questa speciale con questa A. Suggeritemi voi delle parole in chat, vediamo che punteggio riuscite a fare. Nel frattempo io vi spiego l'ultima parte del gameplay. Dopo aver pensato una parola i giocatori contemporaneamente dispongono le carte in modo da mettere nella fila superiore le carte che verranno utilizzate per la composizione della parola. In una fila inferiore invece rivolte a testa in giù, quindi ruotate di 180 gradi, le carte che non vengono utilizzate. Quando tutti i giocatori hanno fatto questo, a partire dal primo giocatore che per il primo round viene scelto casualmente, mentre per i round successivi sarà il giocatore che ha vinto il round precedente, dicono una parola, la parola che hanno pensato, utilizzando appunto quante più carte possibile. Per esempio, facciamo un esempio. Ora, cose dure con queste lettere, vediamo cosa mi può venire in mente. Allora, vediamo cosa si può fare. Una cosa molto, molto, molto semplice, molto, molto easy. Per esempio, io potrei dire cose dure, il legno, che è duro, la posso dire perché posso aggiungere tutte le lettere che voglio, come vi dicevo, e il mio punteggio per questo round sarà 4 dati dalla L, più 2 dati dalla E, andiamo a 6, più 6 dati dalla G, andiamo a 12, più 2 dati dalla O, andiamo a 14, meno però le 2, 4, no, ho troppe carte, scusate, meno le 2, 4 carte che non ho giocato. Quindi 14 meno 4, 10 punti. Sarà il mio punteggio del round. Si confrontano i punteggi di tutte le parole di tutti i giocatori, il giocatore che ha fatto il punteggio più alto gira la carta tema e prende un punto. prende la carta tema per un punto. Se più giocatori hanno totalizzato il punteggio più alto, tutti i giocatori con il punteggio più alto prendono una carta che sta appunto a simboleggiare un punto. Il primo giocatore che raggiunge i tre punti vince la partita. Quindi è un gioco, come vedete, molto semplice da giocare, ma molto veloce anche da giocare, che non ha tempi morti, non ha downtime, perché tutto si svolge fondamentalmente in contatto. Una cosa importante è che facciate dividere le carte da usare per la parola da quelle da non usare per la parola. Perché? Perché nel caso la parola venga contestata, e questo è uno di quei giochi in cui è il tavolo stesso a decidere sul regolamento, sono presenti delle indicazioni su parole valide o non valide, ma come sempre in questa tipologia di giochi è il tavolo a decidere, è facoltà del giocatore a cui viene rifiutata una parola comporre una parola utilizzando le lettere che aveva già scelto prima. Quindi non può però aggiungerne, non può cambiare la parola dopo averla pensata, per intendersi, o cambiare le lettere che vuole utilizzare dopo averle pensate. Vediamo un po', torniamo un po' alla chat, vediamo un po' cosa mi avete scritto. Grano di orite, legnosità, beh, 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 mannaggia, c'è cose dure e doppio sensista come argomento, se poi quelle... Vabbè, è successo in dimostrazione a Lucca, un tavolo con una famiglia, c'erano anche dei bimbi, il gioco tra l'altro è giocabilissimo anche con dei bambini, se avete domande su Pazzaparola fatemle perché poi io vi rispondo a tutte con dei bambini e uscì proprio cose dure come tema e infatti dissi anch'io, mi raccomando, ci sono dei minori al tavolo, abbiate un minimo di dignità nella scelta delle parole, con al tavolo solo adulti, diciamo che quello che è avvenuto fuori non è... non possiamo dirlo in una diretta su Twitch. Dicevo, il gioco da 3 a 8 giocatori si spiega in un attimo, come avete visto ve l'ho spiegato, in un secondo, in quanto? 10 secondi, 30 secondi, possiamo cronometrarlo la prossima volta il tempo che ci ho messo a spiegarlo. semplicissimo e ha una grande particolarità, secondo me. Cioè il fatto che a differenza di altri giochi di parole, il poter aggiungere alle lettere scelte tutte le lettere che si vogliono, rende di fatto impossibile non riuscire a trovare una parola coerente con il tema in gioco. in parole povere, nessuno si sente scemo, tra virgolette, perché non riesce a trovare una parola con le lettere a disposizione, potendole aggiungere tutte fondamentalmente, ma ricevendo solo i punti in base a quelle presenti sulle carte che abbiamo scelto nel corso della fase di draft. Per quanto riguarda le strategie, ce ne sono almeno un paio, considerate comunque un gioco molto leggero, un party game fondamentalmente, anche se la fase di draft strizza l'occhio ai gamer. Perché? Perché è possibile fare dei ragionamenti da gamer, e è possibile giocarlo in maniera molto liscia da neofita. È possibile, per esempio, partire con già una parola in testa e andare a cercarsi le lettere migliori per comporre poi questa parola, oppure fare il contrario. Quindi tenersi delle lettere, magari quelle più remunerative, per poi cercare di utilizzarle al meglio, alla fine, quando le avete già tutte otto a disposizione, per trovare una parola che vi faccia fare un sacco di punti e quindi vincere il round. Anche l'utilizzo delle carte speciali strizza all'occhio ai gamer, benché siano molto semplici da utilizzare e da capire. Intanto sono solo tre, di fatto solo due, perché una permette di copiare una carta nella propria area di gioco e le altre due permettono di copiare una carta nell'area di gioco del giocatore a destra o a sinistra. Sono due, ma funzionano nello stesso modo. Permette questo di avere un livello in più per chi vuole, ovviamente durante la fase di draft andando a scegliersi le lettere speciali per poterle incastrare al meglio, perché il punteggio che fa fare una lettera speciale è pari al punteggio della lettera copiata, della carta copiata. Quindi anche con quelle si può andare a compensare, magari a mettersi in casa una lettera che ci serve, magari tra quelle più remunerative. Le lettere hanno valori diversi, ovviamente le lettere più difficili da usare nella nostra lingua hanno un valore più alto, per esempio la G vale 6 punti se utilizzata, la L ne vale 4, la R ne vale 3, le vocali invece A e I o ne valgono 2. I punteggi delle parole generalmente si va un buon round sopra i 20 punti, è fattibilissimo, è possibilissimo, perché comunque, come dicevo, il fatto di poter raggiungere tutte le lettere che si vuole lo rende fruibile, giocabile veramente con tutti, come età, se un bimbo sa leggere e scrivere fino all'età in cui è in grado di leggere e scrivere, questo può essere giocato, è transgenerazionale, se vogliamo potete giocarlo dalla bisnonna al nipote senza nessun tipo di problema, allo stesso tavolo divertendosi tutti insieme. Valkian, spiegando un altro gioco mi capitò di spiegare a una suora un gioco e la prima volta che aveva un argomento, e la prima carta aveva come argomento religione credo, l'aveva messo in carrello, grazie Valkian, oppure evitare di dare lettere agli avversari se si intuisce la parola scelta all'avversario, esatto, esatto, la parola scelta dall'avversario, se riesci a intuirla puoi anche evitare di dargli carte che gli servono, però considera che ne togli comunque una, puoi togliergli quella carta lì, ma se non hai intenzione di usarla, sono i soliti dilemmi del draft, no? Prendo la carta che è meglio per me, oppure prendo la carta che fa peggio, che è meglio per chi mi viene dopo per toglierla a lui. È per questo che strizza all'occhio il gamer, perché poi magari la prima partita la giocate un po' scialla, no? Poi, o anzi il primo round lo giocate un po' sciallo, poi entra in gioco la competitività, e anche in famiglia, poi specialmente in famiglia, a maggior ragione entra in gioco la competitività, e quindi entra in gioco dinamiche diverse, stante il fatto che, ripeto, è un gioco leggero. Antoine dice, quindi dai 7 anni, il fatto che uno debba saper leggere limita molto il target di potenziali utenti, dai Luca, dai 7 anni, ma direi anche, allora, dipende dal bambino, a quell'età dipende molto dal bambino. Io credo che, personalmente, io credo che sarei stato in grado di giocarlo già dai 4-5 anni, ma perché io a 4-5 anni già leggevo e scrivevo al tempo, sì, poi mi sono sciupato nel crescere. Quindi avrei potuto giocare, lo dipende molto dal bambino. Se il bimbo sa leggere e scrivere, da leggere e scrivere correttamente, senza ricercare cose letterarie o particolarmente letterate, se si sa leggere e scrivere si riesce a giocare senza problemi, a pazza parola. Ho visto, io ho l'esperienza poi maggiore, perché non ho avuto molto modo di riuscire a giocarlo in famiglia. Vivo da solo a famiglia lontana, quindi capita nel fine settimana. Generalmente non ho avuto così grandi occasioni, però in fiera l'ho dimostrato per 4 giorni a Luca Comics and Games insieme ad altri giochi che ho dimostrato. Ho giocato e ho visto giocare decine e decine di partite e hanno giocato anche bimbi piccoli. Piccoli direi, sì, 7 anni, sì, 6-7 anni, sì. Qualcuno magari anche un po' più piccolo, però aiutato da un genitore, aiutato comunque da un adulto, da un fratello, una sorella più grande o comunque da un adulto, ma è un gioco intavolabile con chiunque. Scatola piccola, quindi la potete portare se andate fuori, invece di ospitare a casa vostra per le vostre feste, la potete portare in giro anche per l'aperitivo. Non occupa tantissimo posto sul tavolo, basta il posto per le carte, poi non è nemmeno necessario che le dobbiate tenere per forza tutte bene in fila. Insomma, ecco, potete gestire un po' il vostro spazio di gioco come volete. Secondo me, anche la serata aperitivo ci può stare, con pazza parola, come filler. Ovviamente è un filler, strizza all'occhio ai gamer, ma rimane un filler, quindi un gioco che ha una durata contenuta, anche se poi la partita dal regolamento finisce al primo che arriva a tre. Nulla vi vieta, nella notte di Capodanno, di giocare al meglio delle dieci, di creare carte tema vostre, tirare a sorte dei temi vostri particolari, diciamo che può essere poi fruito su più livelli questo gioco, questo pazza parola. Quindi, per le vostre feste di Natale, ma anche per un regalo di Natale, pensateci, pensateci, andate a vederlo su dungeon dice.it. Me lo sposto da parte, me lo sposto, me lo metto di qua, poi lo riporto, questa copia la riporto a Margherita, che la custodisce gelosamente, Margherita è la nostra custode dei giochi che giochiamo nelle pause pranzo, questa è la carta tema, e mettiamolo qua, pazza parola, per un attimo, e tiriamo fuori Valhalla Lemmings, allora, mi rimetto più o meno come mi ero messo prima, fortunatamente sono due giochi che sono facili da gestire, per quanto riguarda i componenti, ecco qua, già fatto, è arrivato anche Dungeon Store Savona, ciao, ciao, benvenuto, allora, Valhalla Lemmings, gioco di, lo rilego perché non voglio sbagliare, prima l'ho sbagliato, Simone Peracchi, Francesco Pieraccini, e Fabio Trudu, che saluto perché spesso seguono le nostre dirette, quindi magari sono già qua, sento un po' la pressione di avere gli autori del gioco, qua ad ascoltare il mio parere sul loro gioco, l'illustratore Danny Minonne, il gioco si chiama Valhalla Lemmings, ed è stato pubblicato da Red Glove, edizioni e distribuzioni, il sottotitolo dice, titola, un epico gioco per micro guerrieri, perché i protagonisti di Valhalla Lemmings, sono ovviamente i Lemmings, che molti conosceranno, per via del famosissimo videogioco, uno dei videogiochi che ha fatto la storia del media, Lemmings, ma i Lemmings sono dei criceti polanti, fondamentalmente dei criceti che vivono nelle zone subpolari, che sono famosi perché a un certo punto, quasi inspiegabilmente, tendono a lanciarsi da scogliere o comunque di rupi. Il videogioco, infatti, i Lemmings, questi Lemmings che erano antropomorfizzati nel videogioco, andavano a buttarsi di sotto, fondamentalmente, o a uccidersi nei modi più creativi, e lo scopo del giocatore era quello di riuscire a salvarne il più possibile, facendogli arrivare verso l'uscita del livello. Qua, i Lemmings, sono i Lemmings del Valhalla, e come si va nel Valhalla se non morendo in battaglia? E' questo, esattamente questo, lo scopo di questo gioco, da 2 a 6 giocatori. Andiamo a vedere un po' la componentistica. Ah, Valchian, ma sei te Fabio? Non lo sapevo, ecco, vedi, si scoprono, si scoprono gli altarini, si scoprono. Allora, quante partite a quel videogioco, scrive Riccardante, non me lo dire, Lemmings è stato uno dei, all'epoca, era uno dei miei videogiochi preferiti, anche perché, non è che ce ne fossero poi così molti, e quindi, eh, si giocava a quello, a quello che c'era, tuttavia Lemmings era geniale per la sua impostazione. Bene, dicevo, eh, questa è la componentistica del gioco, tutto quello che trovate in questa piccola scatola, anche in questo caso portabilissima. I sei mazzetti di carte, sei mazzetti da dieci carte, uno per ogni giocatore, che rappresentano il clan di guerrieri Lemmings, per ogni giocatore. La carta, primo giocatore, delle carte con un clan neutro, che vengono utilizzate quando si gioca in sei giocatori, per avere una pila degli scarti, un po' di carte già nella pila degli scarti, altrimenti si usano le carte non utilizzate, e poi, le carte delle leggende del Valhalla Lemmings, che sono questi personaggi che hanno, eh, diciamo, dei richiami a personaggi, eh, della letteratura fantasy, in qualche modo, della, del Pantheon Norreno, per esempio, c'è il Lemserker, sono tutti ribattezzati, la Lemkiria, il Lemmingheart, e così via, il Dottor, il Dottor Dulemming, e così via, in maniera molto simpatica. Queste carte leggende, hanno dei poteri speciali. Vi ho già detto lo scopo del gioco, lo scopo del gioco, è quello di mandare al Valhalla, tutti i vostri membri del clan, quindi, lo scopo è quello di arrivare alla fine del turno, senza avere carte in mano. I round si svolgono tutti, eh, tutti nello, nello stesso, eh, nello stesso modo. Andiamo a vedere che voglio darvi la terminologia precisa. Allora, facciamo il setup, simuliamo una partita a tre giocatori, facciamo che giocano il viola, il blu, e il verde. Facciamo così. Ogni giocatore ha un mazzo, composto da dieci carte, con un'illustrazione, cioè una striscia del proprio colore per identificarle, e queste carte sono cinque carte dal valore uno, due carte dal valore due, due carte dal valore tre, e una carta di valore cinque. il mazzo è uguale per tutti i, eh, il mazzo è uguale per tutti i, eh, giocatori. Giocando in una partita a tre, anzi, facciamola a quattro giocatori, che giocandola in una partita, che giocando a tre giocatori, c'è una, eh, piccola, eh, modifica da, da fare. Quindi in quattro giocatori invece riesco ad andare liscio e snello, questa la facciamo come pila degli scarti. All'inizio della partita ogni giocatore riceve una carta leggenda, le mischio un po', perché questa è una copia che mi sono appena aperto, perché la mia l'ho dimenticata a casa stamani. Quindi ho dovuto aprire un'altra copia, disturbare i magazzinieri per loro somma gioia, visto che, insomma, sono giornate abbastanza, abbastanza impegnative. Come sapete, ogni giocatore riceve una carta leggenda, che non viene attivata, darà soltanto inizio alla saga di quel, alla saga di quel, di quel clan. Dopodiché c'è la fase arrivano le leggende. Si inizia ogni round con la fase arrivano le leggende. Vengono messe al centro del tavolo un numero di carte leggenda in base al numero di giocatori. In due giocatori vengono messe, in quattro giocatori, scusate, vengono messe due carte leggenda. Fatto questo c'è la preparazione della battaglia. Tutti i giocatori selezionano dalla propria mano, da una a tre carte che faranno entrare in battaglia per quel round. Non può essere meno di una, quindi almeno una carta deve essere mandata in battaglia. Non possono essere più di tre. Quindi da una a tre, come dicevo. Quando tutti i giocatori hanno selezionato le tre carte, le proprie tre carte da mandare in battaglia, facciamo un esempio rapido, e ovviamente i giocatori devono far vedere quante carte stanno mandando in battaglia, fino a che non sono tutti pronti, una cosa importante, fino a che non sono tutti pronti, sono possibili modifiche, sono possibili chiacchiere, sono possibili... Si tratta fondamentalmente di un gioco in cui dovete bleffare il più possibile. Quindi non vi fate problemi a discutere, ma una volta che i giocatori hanno scelto le carte che andranno in battaglia, quelle saranno... Facciamo così. Perfetto. Questa è la preparazione alla battaglia. Terza fase. Alla carica. Tutti i giocatori scoprono contemporaneamente le carte che hanno scelto di mandare in battaglia. E a questo punto si verificano i risultati. Il primo giocatore facciamo che è il giocatore verde. In questo caso. Ora, sto cercando di starci anche con gli spazi, che non è facile così. Allora, il giocatore verde fa 6, un totale di 6 in battaglia. Il giocatore rosso ha un totale di 8, il giocatore viola un totale di 1, mentre anche il giocatore blu ha un totale di 8. Allora, il giocatore con il valore di battaglia più alto, in caso di pareggio, come in questo caso è il giocatore che ha il segnalino primo giocatore, oppure quello più vicino, seguendo l'ordine, in senso orario, di gioco rispetto al primo giocatore, in questo caso il giocatore blu, vince la battaglia e quindi sceglie una delle due carte leggenda al centro del tavolo, la prende, la attiva, se è una carta che si attiva subito, oppure la tiene di fronte a sé, se è una carta come per esempio, come l'EMTSU, che dice, nella prossima battaglia, decidi quali carte villaggio usare, dopo che tutti hanno rivelato le loro, le carte villaggio sono queste carte qua, chiamate carte villaggio, su questa, insomma nel gioco sono chiamate carte villaggio, prima le ho chiamate i clan, ma sono carte villaggio, la mette davanti a sé e la utilizza nel momento in cui poi gli viene detto di utilizzarla, nella prossima battaglia in questo caso la maggior parte delle carte però vengono attivate immediatamente, quindi si prende la carta, la aggiunge alla propria saga, e riprende però in mano le carte che ha utilizzato, perché ha vinto la battaglia, cioè i guerrieri tornano a casa. Il secondo in battaglia è il giocatore rosso, anche lui con 8 punti, che prende la carta leggenda rimanente, la mette a destra di quella che già aveva, in modo da proseguire la propria saga, e rimette però anche le sue carte nel suo mazzo. Chi non prende carte leggenda manda i suoi eroi al Valhalla, quindi i giocatori che non prendono carte leggenda fanno quello che il gioco li chiede di fare fondamentalmente, quindi iniziano a scartare carte. Carte che vanno nella pila degli scarti, vanno sopra, e ogni volta che si deve pescare dalla pila degli scarti capita in base a delle carte leggenda, solo grazie a delle carte leggenda, altrimenti non si pesca dagli scarti, gli si dà una mischiata prima di pescare. Poi le carte vengono aggiunte sempre sopra, questo per facilità di gameplay, visto che potrebbe capitarvi, non capiterà mai, ma potrebbe capitarvi in una partita di non pescare mai carte fondamentalmente. Fatto questo, si prosegue con un altro round, quindi si mettono altre due carte leggenda al centro del tavolo, il primo giocatore passa al giocatore a sinistra, e si prosegue. Tutti i giocatori preparano la battaglia scegliendo da una o tre carte tra le proprie, tra quelle nella propria mano, e poi vanno in battaglia cercando di terminare prima possibile le proprie carte. Il giocatore che alla fine del turno non ha più carte in mano è il vincitore di Valhalla Lemmings. Questo è quanto. Vediamo se avete già scritto qualche domanda, non ne avete scritto niente. Voi chiedete se avete dubbi su quello che vi ho detto, dubbi sul regolamento. Oggi giochi troppo complicati, questo è uno scoglio di entrata ancora più grande. Trova le quattro persone che sanno fare somme e differenze, in realtà ne basta una. Ne basta una di persone che sappia fare i conti che è quella che poi conta e fa scartare le carte e assegna le cose. Gli altri, se lo sanno o se non lo sanno, possono giocare anche in base alle illustrazioni pucciosissime, tra l'altro bellissime, che sono presenti sulle carte. Come avete visto, è un gioco molto molto semplice da spiegare, molto veloce anche da giocare, ma con delle dinamiche interessanti, perché si tratta di uno di quei giochi dove di fatto per vincere devi perdere, tra virgolette. Si viene a creare sempre quella situazione in cui vorresti vincere la battaglia per prendere la carta leggenda, perché qual è la cosa interessante del gioco, perché se uno dovesse tirare sempre a perdere sarebbe banale. Qua il fatto è che si vengono a creare dei conflitti interiori tra il voler vincere la battaglia per prendere quella carta leggenda che potrebbe essere risolutiva nel round successivo, oppure vincere la battaglia magari utilizzando un tot di carte per prendere la carta leggenda che permette di manipolare le carte che abbiamo utilizzato, andare a manipolare le carte di un avversario, oppure come quella che vi ho fatto vedere prima, l'MSU che nella battaglia successiva vi permette di decidere quali carte villaggio usare dopo che tutti hanno rivelato le loro, che vi dà un vantaggio tattico davvero non indifferente, si viene sempre a creare questo conflitto interiore tra il scarto il più possibile carta, cioè tiro a perdere gioco valori nelle mie intenzioni più bassi rispetto agli avversari così scarto un po' di carte oppure tiro a vincere quella carta leggenda quante carte uso? uso tre carte da uno o uso una carta da tre? E un sacco di situazioni che si vengono a creare al tavolo il gioco nella confezione danno 30 minuti di gioco devo dire che a me 30 minuti una partita non è mai non è mai durata perché poi ovviamente è molto veloce il gioco è molto veloce anche qui come avete visto i giocatori giocano in contemporanea che è una cosa che apprezzo sempre molto in questi titoli che poi vado a proporre a persone che non sono proprio abituatissime al gioco da tavolo perché di fatto sei sempre al centro dell'azione fondamentalmente quindi non hai un attimo di tregua non ti senti mai fuori dal gioco sei sempre dentro al gioco può capitare capita cioè le dinamiche non si limitano a questo perché poi dopo le prime partite iniziate anche specialmente se giocate ora in 6 non ho mai giocato ammetto di non aver mai giocato in 6 però in 4 giocatori a un certo punto quando un giocatore inizia a rimanere poche carte in mano uno se si ricorda quello che ha scartato si possono creare anche quelle situazioni in cui io so che cosa hai te tu sai che io so che cosa hai te come ci segna il buon giullare se non ricordo male io so che tu sai che io so che vanno poi gestite che creano delle situazioni sempre molto divertenti al tavolo ecco l'ho trovato molto 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 divertente geniale nella sua semplicità perché intanto il dover giocare a perdere tra virgolette è una cosa che a me piace piace sempre cioè vincere perdendo è una cosa che piace dai tempi di crack se vogliamo e poi compensata dal fatto che il gioco ti invoglia a vincere perché le carte leggenda sono potenti sono le leggende di Valhalla Lemmings e sono ovviamente potenti quindi vanno a risolvere delle situazioni vanno a creare dei vantaggi però per prendere quel vantaggio rischi di far scartare un sacco di carte buone agli altri giocatori carte buone da scartare sono quelle di valore alto ovviamente che sono più difficili da smerciare da dar via perdendo le battaglie perché ovviamente su uno gioco una carta da 5 cioè dar via la carta da 5 diventa difficile se non si utilizzano dei poteri speciali è strano io vi consiglio di provarlo vi consiglio anche di regalarlo senza remore per Natale perché il gioco è semplicissimo il regolamento vi faccio vedere è questo foglietto qua se considerate che nelle due pagine sono dedicate una alla spiegazione delle carte leggenda che comunque hanno testo anche sulla carta che spiega bene cosa deve essere fatto quando viene attivata e l'altro sono per la modalità due giocatori cioè il regolamento è veramente semplicissimo come avete visto si spiega in due minuti si gioca in 20 minuti si mezz'ora al massimo proprio mezz'ora dalla prima partita poi iniziate ad andare molto molto snelli molto snelli in due giocatori diventa molto più marcarsi tra l'uno e l'altro come spesso succede in giochi di questo tipo piacevole anche in due giocatori veloce anche in due giocatori ci sono delle piccole modifiche al regolamento da fare per renderlo più fruibile ma sono un paragrafetto qua nel regolamento piacevole giocabile anche questo ovunque perché questo ha bisogno addirittura se vogliamo di meno spazio rispetto anche a anche a pazza parola veramente bisogno di pochissimo spazio perché poi fondamentalmente le carte le vostre carte le tenete in mano le mettete giù da 1 a 3 a ogni round quindi cioè il posto che occupa è molto molto piccolo il posto che occupa tra l'altro anche in borsa per portarlo in giro è molto molto poco vediamo 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 intanto ringrazio vediamo se ci sono delle domande ringrazio tiggercut per il rinnovo dell'abbonamento allora guybrush mi chiede se ci sono poteri bastardi sì cioè nel senso il il gioco è ecco qua per dire c'è lo 00 lemmete fantastiche queste carte che dice un giocatore a tua scelta ti mostra la sua mano poi scambia fino a due carte villaggio dalla tua mano con quel giocatore perché ovviamente sì queste sono le vostre identificate dal colore ma una volta che vanno negli scarti e vengono prese in mano da altri o grazie a carte leggenda potrete trovarvi potete trovarvi carte di colori di altri giocatori in in mano e anche questo va a far creare delle situazioni in cui io so che te hai preso la mia carta da 1 e io so che la tua carta di quel colore del mio colore è una 1 perché l'hai presa da me cioè ci sono sembra sono quei giochi che sembrano semplicissimi però poi se si va a vedere le dinamiche che si vengono a generare non so se Fabio magari lo scriverà in chat se è un effetto che voleva questo per la striscia colorata dietro le carte perché io quando ho approcciato il gioco la prima volta il primo pensiero è stato eh ma la striscia colorata dietro fa vedere nel caso io prenda la carta da un altro giocatore quale carta è eh ma fa parte del gioco poi giocando mi sono reso conto che fa parte del gioco e va benissimo così e va benissimo così perché aumenta se vogliamo le possibilità di bluff aumenta le possibilità di bluff poteri bastardi altri mi hai chiesto poteri bastardi sì 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 aspetta eccolo qua il dottor Dulemint che fa pescare carte agli altri giocatori nella prossima battaglia tutti i perdenti escluso te pescano una carta villaggio per ogni carta villaggio che devono scartare allora sono tutte prevedibili nel senso non le carte leggenda non vengono giocate alla take death cioè non vengono giocate di nascosto non vengono giocate all'improvviso tu sai quali carte sono in gioco quali carte sono in gioco a ogni round quali carte verranno attivate alla fine del round o all'inizio del round successivo perché sono le carte che sono sul tavolo in questo momento quindi puoi prevederlo in qualche modo ma si ci sono delle carte mastarda se vogliamo comunque che vanno a creare un'interazione diretta tra i giocatori cioè andare a rompere le uova direttamente nel paniere dell'avversario quindi sì Valken sono 48 carte guarda vorrei darti vorrei dirtelo di preciso 44 carte leggenda 44 carte leggenda alcune sono in più copie altre in meno sono 44 in totale Valken scrive che è Fabio Trudo uno degli autori bravissimo Fox ha capito esattamente lo spirito bravissimi anche voi perché comunque è facile da capire lo spirito di questo gioco bellissima maglia grazie grazie ok sì se vuoi ci fai caso per il colore ma un'aggiunta di sviluppo dell'editore così ti ricordi che hai fatto uno sgarbo a qualcuno perfetto perché ovviamente come dice sempre il gioco poi dalla creazione dell'autore all'uscita sul mercato c'è tutta una fase di sviluppo per cui può subire modifiche o miglioramenti in alcuni casi anche peggioramenti se vogliamo da parte dell'editore devo dire che come ho detto Fabio ma anche Federico Dumas di Red Globe che spesso ci segue quando ho letto il regolamento dopo aver aperto la scatola perché io ne avevo sentito parlare da altri di questo gioco che l'avevano provato a Luca Comics and Games poi in pratica contemporaneamente settimana scorsa Fabio mi ha mandato un messaggio mi fa guarda se non l'hai ancora provato provalo e io l'avevo appena preso però non gliel'ho detto l'avevo appena preso perché ne volevo parlare in una puntata di Board Next però non gliel'ho detto sono stato sono stato zitto ho fatto questa sorpresa in qualche in qualche modo e sì devo dire che è un'aggiunta che non solo non diciamo non conferma il dubbio che avevo ma lo smentisce completamente perché è molto più simpatico così il gioco va preso per quello che è cioè Malala Lemmings va preso per quello che è è un filler party game un gioco molto semplice dove le dinamiche sono più importanti delle meccaniche ma supportato da meccaniche che girano fluide come un orologio girano bene come un orologio ma in questa tipologia di giochi sono le dinamiche importanti sono le situazioni che si vengono a creare al tavolo e questo gioco riesce a creare delle dinamiche tra i giocatori sempre molto interessanti senza andare a creare delle strutture o delle eccezioni regolamentari che poi rendono il gioco meno fluido per esempio alcuni aspetti di Kill the Unicorns funzionano il gioco vincitore del gioco dell'anno del 2019 funzionano in modo simile a Valala Lemmings o viceversa insomma ecco con Valala Lemmings alcune cose funzionano in modo simile a Valala Lemmings però è molto più fruibile molto più intavolabile secondo me perché non ha eccezioni non ha sovrastrutture e fa quello che deve fare cioè ti fa passare quei 20 minuti mezz'ora in al tavolo con un gioco che ti richiede anche di ragionare perché quelle cose che non sembrano all'inizio però ti richiede di ragionare se vuoi vincere devi ragionare in qualche modo ti chiede di provare a entrare nella testa degli altri giocatori cercando di fare in modo che gli altri non entrino nella tua quindi c'è anche questa parte di bluff deduzione che deve esserci in giochi di questo tipo e l'ho trovato molto più snello personalmente tra i due intavolerò questo da ora in avanti con nuovi giocatori perché l'altro con i nuovi giocatori spesso ha dato vita a esperienze proprio per il fatto che tra poteri speciali eccezioncine o comunque un game design con dei layer in più rispetto a questo me lo fanno preferire meno ma la Lemmings fa perfettamente quello che gli si chiede di fare ha un costo tra l'altro costa 10 euro se non ricordo o male che lo rende perfetto per essere regalato per Natale e un player count da 2 a 6 giocatori che lo rende intavolabile anche in quelle occasioni che ho già citato anche troppe volte in questa puntata di oggi quindi per quanto mi riguarda visti tutti gli aspetti in gioco consigliatissimo se vi piacciono anche questa tipologia di giochi come dico sempre ovviamente se non mettete sul tavolo nulla che non sia meno di uno splotter o un GMT non fa il caso vostro è un altro tipo di giochi si presuppone di fare altro questo gioco rispetto agli splotter o ai GMT per tutti quelli che hanno capito quello che intendo secondo me non dovete lasciarvelo scappare e come vi dicevo è anche un'ottima idea per un regalo di Natale a persone che magari volete introdurre al gioco da tavolo perché comunque lo possono giocare poi anche in due giocatori e l'esperienza rimane molto divertente anche in due giocatori certo non è il gioco che consiglierei se mi veniste a chiedere consigliami un gioco da giocare solo in due giocatori non vi consiglierei probabilmente Valhalla Lemmings ma se lo regalate a una coppia di amici magari la serata in cui andate a giocarci la cena degli auguri faccio l'esempio cena degli auguri la coppia che ospita gli portate un presente di solito si porta una bottiglia di vino o una bottiglia espumante o comunque una cosa del genere una pianta qualcosa del genere portate stavolta Valhalla Lemmings come presente per la famiglia la sera ci giocate anche a loro gli rimane e magari se lo reintavolano se riuscite a rendere interessante la serata divertenti le partite magari il giorno dopo dopo qualche giorno lo reintavolano anche da soli e avete creato una nuova coppia di appassionati pensateci perché c'è bisogno che tutti noi divulghiamo per andare a aumentare il numero di giocatori da tavola in Italia ed avere sempre così qualcuno con cui poter giocare detto questo abbiamo fatto le 13 e 54 siamo quindi in chiusura 10 euro con il 10 più 15 cioè praticamente oggi è regalato Valhalla Lemmings dicevo sono le 13 e 55 ormai siamo in chiusura di questa puntata di Board Next io vi ringrazio per essere stati con me numerosissimi anche oggi ringrazio tutti quelli che hanno rinnovato il loro abbonamento a Dungeon Cast TV e anche tutti quelli che hanno riscattato le ricompense dallo stream store di Dungeon Cast TV allora facciamo così facciamo così solo perché siete voi solo perché siete voi i codici VIP che avete riscattato fino a ora fino a questo momento anzi facciamo fino alle 14 ve li invio subito quelli dopo vediamo se vi arriveranno già stasera oppure domattina vi ricordo sempre che dal momento del riscatto possono passare fino a 48 ore per che vi arrivi il codice sulla casella di posta elettronica che avete indicato al momento del riscatto questo perché i codici l'invio dei codici viene comunque gestito a mano per evitare abusi viene ancora gestito a mano per evitare abusi rendetevi conto che sono giornate anche per noi molto particolari molto cariche abbiate un po' di pazienza cercherò comunque di fare in modo che il codice vi arrivi entro le 48 ore certo è che comunque lo sapevate che il Black Friday la settimana del Black Friday iniziava oggi potevate pensarci anche un pelo prima vi ricordo velocemente tutti gli appuntamenti di DungeonCastTV prima di salutarvi domani sera alle 21.30 torna il Marian Show l'ospite sarà Denise Venanzetti notissima traduttrice di giochi da tavolo e giochi di ruolo in Italia molti dei giochi da tavolo che avete nella vostra collezione portano il nome di Denise tra i traduttori sarà un'occasione importantissima per parlare oltre che con una grandissima giocatrice appassionata di gioco da tavolo e gioco di ruolo con una grandissima professionista nella sua professione che è appunto il lavoro di traduzione e adattamento del testo alla lingua italiana un argomento che spesso viene discusso sui social secondo me senza neanche i mezzi per poterne discutere perché il lavoro di traduzione è un lavoro importante ma è un lavoro che deve essere fatto in un certo modo e non è semplice da fare perché poi dipende anche dalle condizioni di lavoro quindi se volete saperne di più sulla traduzione di testi giochi da tavolo giochi di ruolo fumetti e chi più ne ha più ne metta sul lavoro di traduttore magari anche come iniziare una carriera da traduttore freelance domani sera a 21.30 qui sul canale Twitch di DungeonCast TV mercoledì alle 12.30 invece torneremo a Night City proseguiremo l'esplorazione di Night City con Cyberpunk 2077 il videogioco in attesa che arrivi il gioco da tavolo per mano di Simone ci siamo buttati nell'esplorazione di Night City il videogioco di CD Projekt Red uscito un anno fa di cui ne hanno straparlato nel bene e soprattutto nel male per i molti difetti che ha abbiamo deciso comunque di farvelo vedere per farvi avere un'idea perché comunque ha delle cose buone da farvi vedere quindi venite a farmi compagnia alle 12.30 di mercoledì giovedì ve l'ho già detto in apertura quando ho parlato della notizia del quiz show di Trivial Pursuit torna Dungeon Quiz alle 21.30 Feldopedia me la state portando avanti da troppo tempo chissà cosa sarà accoppiata questa settimana venite a rispondere alle mie domande diventate il prossimo campione di Dungeon Quiz venerdì qui ci troverete invece Mario per un'altra Q&A e chissà di cosa andremo a parlare questa settimana lo scoprirete nei prossimi giorni seguendo i nostri profili social e il nostro gruppo Telegram Dungeon Cast mi raccomando iscrivetevi al gruppo Telegram perché parliamo di giochi H24 detto questo ragazzi vi ringrazio per essere stati con me anche oggi auguro buon pranzo a chi come me ancora non ha desinato e buon pomeriggio a tutti quelli che invece l'hanno già fatto noi ci vediamo qua sul canale Twitch di Dungeon Cast TV domani sera per il Mario in Show alle 21.30 ciao a tutti buon proseguimento di giornata ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.